Partiamo! Andiamo! Forza! 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 Conte morto... Tutto questo non ha senso. Non è il lago che conosco. Grazie agli dei cei trovati Ho ricevuto il messaggio Il tuo messaggero è fortunato a essere vivo Ti ha tradito, Brasida Questa setta di cui mi ha parlato Mirine Sapevano del vostro arrivo E devono aver costretto l'ago a mettere una taglia sulla vostra testa Sarà dura affidarsi di qualcuno in Arcadia ora Per questo dico di infilzare la testa di quell'arconte su una picca Manderemo un chiaro messaggio al re Fantoccio di Sparta Scopriamo di più su cosa succede in Arcadia Dovremmo riuscire a risolvere i problemi con l'ago Senza far cadere troppe teste Dopo la fine che ha fatto il mercante in Corinzia Il pubblico voleva il sangue La violenza non risolve ogni problema Qualsiasi cosa succeda, lago ci serve vivo L'Arcadia è il granaio di Sparta E lui lo mantiene sempre pieno Quell'uomo lavora per la setta di Cosmos Non per Sparta Allora dobbiamo liberarlo dalle loro grinfie Perché pensi che voglia andarsene? Le taglie e le minacce non sono nello stile di lago È un agricoltore, non un sicario Cos'hai in mente, Brasida? Al contrario di tua madre, secondo me Possiamo agire con discrezione Voglio perlustrare uno dei rifugi di lago Potrebbe contenere degli indizi Come dovremmo agire? Io dico di spedire l'Arconte nell'Ade Se sconvolgiamo l'equilibrio del granaio di Sparta Il falso re uscirà allo scoperto L'Arconte non è più l'uomo che conoscevi Ora sta con la setta Sono arrivato al momento giusto Così pare Ma è ora di prendere una decisione La tua strategia ha senso, Brasida Grazie Lieto che tu sia d'accordo I tuoi sentimenti stanno fuscando il tuo giudizio Migliaia di spartani dipendono da lago Per cibo e protezione La sua morte porterà il caos Lago ha un rifugio in una fattoria a nord-est di Tegea Vediamoci lì Prima che tu possa fare qualcosa di cui ti pentirai E se il piano di Brasida non funzionasse? L'Arconte si nasconde come un codardo a Fortes Amico Quella mostruosità non può sfuggirti Potresti raggiungerlo Ma fa attenzione Sarà ben difeso Allora dobbiamo indebolire le difese Alloggi pieni di guardi E granai pieni di cibo Sarebbe un peccato se accadesse qualcosa Esattamente dove sono i soldati di lago Alcuni riposano negli alloggi di Tegea Ci sono anche un accampamento e un forte Nella foresta dei contrabbandieri Eliminali e avrai indebolito le sue difese Dimmi dove trovare i granai L'Arconte immagazzina il grano nella culla di panna Incendia i granai E il suo sostentamento andrà in fumo Vado a scoprire cosa ha in mente lago Buona fortuna tesoro Non capisci Non è solo una questione di fuoco e grano È personale Andiamo Phobos Non capisci Non capisci Non capisci Ci sono tre animali per ogni persona Meglio fare attenzione ai predatori Non capisci Deve esserci qualche prova qui intorno Sei qui? Allora lago è ancora vivo Che cos'è questo posto? Lago si mostra spesso in pubblico in Arcadia Qui è dove si occupa degli affari privati Ricordami Perché vuoi risparmiare la vita a un uomo che vuole uccidere me e mia madre? Conosco lago da molto tempo Ha rifornito le mie truppe quando facevano la fame Non è per niente da lui agire in modo così disonorevole Che cosa stai cercando? Se scopriamo chi sta manipolando lago non servirà a spargere del sangue Credevo che gli spartani bevessero sangue a colazione Ne ho visto abbastanza per i miei gusti Ma ho ancora speranza Ti stai ammorbidendo, Brasida Quando Leonida morì alle Termopili Ci schieramo insieme contro un nemico comune Ateniesi e spartani che combattevano fianco a fianco Cos'è stato? C'è qualcuno Ti hanno seguito? No Bene Hai la lettera di lago? Sì Dobbiamo consegnarla all'albero bruciato Vicino a un campo dorato Lì incontreremo qualcuno che la porterà al nascondiglio Una lettera di lago? Potrebbe avere le risposte che cerchiamo Le seguo Tu continua per lustrare la casa Un'altra lettera di vedere La lettera di lago Va ai l'ai La lettera di lago La lettera di lago E' un luogo La lettera di lago Il Cos'è La lettera di lago Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. quindi... a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e... e... ... non... la fattori... e... una vecchia fattori... a... test di... e... e... che... chissà... chissà... e... e... ... ... e... 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 l'oscurità mi terrà nascosto. e... 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 Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.